L'obiettivo primario del consorzio da sempre è quello di animare le attività degli associati. Guidato dal neo eletto presidente Massimo Capraro, il rinnovato consorzio Belluno Centro Storico ha grande entusiasmo e voglia di ricominciare, di aprirsi ad una nuova normalità con l'auspicio condiviso di essersi lasciati alle spalle i periodi più acuti della pandemia vedendo rifiorire assieme all'imminente primavera anche la vitalità del capoluogo bellunese. Sette componenti del Consiglio in carica per i prossimi tre anni fra i quali spiccano i due vice presidenti di Capraro, ossia Silvia Ciani e Cristian Marchetti. Gli operatori sono adesso una settantina, sono tutte imprese del centro storico se lavorano loro automaticamente la città si anima e viceversa. Le conseguenze del virus, lo spopolamento che galoppa, la forte denatalità che attanaglia anche la provincia tanti sono i fattori che si ripercuotono sulle attività del tessuto economico locale e di riflesso sulla vitalità del territorio stesso. Il centro sta soffrendo sicuramente, siamo anche tra l'altro nel mese più delicato statisticamente a livello proprio di incassi e quindi il centro soffre, ci sono state parecchie chiusure ci sono ancora delle debolezze però la prospettiva stagionale e anche il saluto speriamo finale della pandemia ci fa guardare al futuro con una discreta fiducia. Tra proposte consolidate e idee innovative il Consorzio Belluno Centro Storico ha proiettato già i prossimi impegni. Saltiamo il carnevale che ormai ha le porte e non ci consentirebbe ancora un'attività impegnativa come al solito quindi guardiamo all'estate, guardiamo ai mesi di luglio e agosto che sono quelli che ospitano normalmente Belluno di sera. L'anno scorso non è stata fatta, quest'anno riprende dopo un anno di pausa con cautela, con rispetto però anche con la volontà di farla diventare un po' l'attività di rinascita del nostro gruppo.